La strada regionale 429 è momentaneamente chiusa in località Colombaia a Castelfiorentino per il recupero di un mezzo pesante uscito dalla sede stradale Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori in entrata e uscita lo svincolo di Follonica Est in direzione Livorno La viabilità cittadina a Firenze ricordiamo che sono in corso lavori di pavimentazione su ponte Vespucci di vieti di sosta e transito da Lungarno Vespucci a Lungarno Soderini Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Vi auguriamo un buon viaggio Grazie a tutti